La robotica di oggi è una robotica che collabora, che convive con le persone. E notate la differenza, qui le persone sono vicine ai robot, li toccano, interagiscono con loro e per ogni robot c'è un umano. Questa è la robotica collaborativa, vengono chiamati co-bots spesso. E questo è quello che probabilmente è il motore della vera prossima rivoluzione, perché è quello che può portare la robotica ad aiutare le persone sulla linea di lavoro e a risolvere quei problemi di automazione sulle piccole e medie scale, dove non ha senso fare investimenti di questo tipo, ma che può portare ad aiutare le persone nel svolgere il loro lavoro. E questo è il passaggio che stiamo vedendo. Robotica dalla segregazione, macchine separate dagli uomini per la sicurezza, a integrazione, centralità delle persone. Macchine che lavorano con gli uomini, macchine che sono vestite dagli uomini, macchine che possono toccare fisicamente le persone per aiutarle. Essendo robotica interazione e essendo l'interazione che noi facciamo con il mondo, fatta per la grande maggioranza dei casi con le mani, le mani hanno un ruolo fondamentale. E questo è quello che a me ha sempre attirato nelle mani, capire come l'intelligenza è veramente un'intelligenza del fare, come diceva Berson, o come la mano ha influenzato la crescita e la strutturazione della nostra mente. Già Anasagora pensava che l'uomo era il più intelligente degli animali perché ha le mani. Come fa il cervello a gestire tutta questa massa di informazioni? Beh, in effetti, questa è una delle domande che ci poniamo da tempo, il cervello gestisce queste informazioni perché parte dell'intelligenza non è nel cervello, ma è nel corpo stesso. La robotica si sta spostando da quella che era la robotica tradizionale a una robotica che è molto più vicina all'uomo. Anzi, adesso siamo in contatto con lui.